siamo al parco giochi e dai garage escono un furgone rosso, un furgone bianco e rosa e un furgone celeste giallo il furgone rosso trasporta la frutta e la verdura il furgone bianco e rosa vende il gelato che buono il gelato che può resistere al suo richiamo gelati 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 al cioccolato nocciola e panna il camion blu trasporta pane e dolci le michette il pancarrè i panini e i dolcetti e ora al lavoro rosso giallo verde la sopraelevata ci porta nelle strade del parco giochi ehi qualcuno si è già ben piazzato il furgone dei gelati il gatto e il cane di fronte al gelato vanno d'accordo due monete due gelati questo per il cane e questo per il gatto buonissimo il gelato rosso arancione verde il furgone rosso si ferma al negozio di frutta e verdura scarichiamo le cassette rape rosse carote carote qui ci sono mele per tutti i gusti ed ecco le gustose fragole grazie furgone rosso il camion blu rifornisce il negozio di pane e dolci ecco i dolcetti buonissimi e i panini e infine il pancarrè e le croccanti michette missione terminata torniamo ai garage le consegne sono terminate il gelato lo hanno mangiato cani e gatti ci meritiamo un po' di riposo ciao a presto con i veicoli da lavoro l'autolavaggio sta piovendo e sulla strada si formano delle pozzanghere i veicoli vanno veloci e un camion fa schizzare il fango su una betoniera sporcando anche il finestrino evviva la pioggia è finita la betoniera arriva in un cantiere e versa la miscela di cemento per la fondazione sopra la quale verrà costruita una casa fatto! la betoniera ora è più leggera e le ruote girano a vuoto schizzando il fango ovunque ha sporcato la ruspa e il camion gru in compenso la betoniera è uscita dalla pozza di fango anche se i mezzi sono sporchi il lavoro va avanti il camion gru con il suo potente braccio solleva i blocchi di costruzione e li posiziona sulla base di cemento attenzione camion gru il blocco verde non è sopra l'altro è caduto sul fango sporcando ancora di più la ruspa anche il grande camion appena arrivato è sporco e sul suo cassone va caricato il blocco verde che andrà al lavaggio ma guardate quanto fango e lo lascia tutto sul cassone così non si può lavorare torniamo ai garage il grande camion scalicherà il cubo verde sporco di fango e andrà a riposarsi appena asciugate le pozzanghere i lavori riprenderanno eccoci arrivati eccoci arrivati eccoci arrivati perché le porte non si aprono c'è qualcosa che non va ma certo non si può entrare nei garage sporchi di fango e allora tutti al lavaggio una bella spazzolata con acqua e sapone leva il fango di dosso pronti per il lavaggio chi è il primo il camion betoniera wow com'è nuovo e ora il grande camion anche il cassone è pulitissimo camion gru che meraviglia ed ecco la ruspa del fango nemmeno l'ombra questi grandi veicoli da lavoro sono perfettamente puliti possono andare in garage e guardate una porta è rimasta chiusa chi sta uscendo una spazzatrice stradale stupenda toglie la sporcizia dalle strade e i veicoli passando non si sporcheranno anche per la spazzatrice è tempo di rientrare e allora a presto tutti qui con un albero sulla strada dal grande ascensore ecco una macchinina da gara porta il numero 6 ed è color viola attenzione qui la rampa è più ripida guardate il ramo di quell'albero sta crescendo a vista d'occhio riuscirà a passare la macchina gialla no il ramo occupa tutta la rampa che possiamo fare che acrobazia gran salto ma la strada deve essere liberata chi ci aiuterà veloce la macchina sportiva è già ai garage dei grandi veicoli da lavoro buongiorno amici un albero blocca la rampa tutti aspettano il vostro intervento presto che lunga fila di automezzi non è complicato tagliare il ramo ma nessuno deve farsi male in realtà sembrava più facile il trasportatore di legname ha una pinza potente ma niente da fare va tagliato camion elevatore e moto sega adesso sì che la pinza del camion può afferrare il ramo a tre pezzi il muletto il taxi il gelataio il pick up liberi di circolare i grandi veicoli stanno confabulando ehi ehi cosa volete fare l'escavatore sembra terribilmente deciso povero albero però le radici non vengono tagliate cosa vuol dire questo chi ha detto la parola trapianto si vuol dire che sarà trapiantato evviva vicino alla pista era pericoloso wow guardate che potenza il braccio del camion trasportatore ha sollevato l'intero albero la nuova sede è quasi pronta che forza manovrare con quel braccio e quella pinza pronti l'albero è stato trapiantato ma come tutti noi ha bisogno di acqua e non poteva mancare il camion cisterna che meraviglia anche l'albero ha cambiato casa o meglio terreno ed è in buona compagnia guardate quanti alberi i grandi veicoli da lavoro sono veramente utili operazione finita tutti nei garage pronti per la prossima puntata ciao piccoli amici a presto con i grandi veicoli da lavoro che meravigliosi scivoli con tanto di piscine una piccola macchina rossa sportiva corre tra gli scivoli cosa vuole fare salta per vedere cosa c'è nella piscina oh no le piscine sono vuote andiamo a cercare qualcuno che possa riempirle i garage sono tutti chiusi ehi c'è qualcuno nei garage servono tante palline per riempire le piscine chi può aiutarci ehi sveglia ehi è ora di mettersi al lavoro dobbiamo riempire le piscine di palline e allora bussiamo alla porta si apre ciao autocarro viola hai tante palline nel cassone sono proprio quelle che ci servono anche l'autocarro giallo ci aiuterà con le sue palline gialle ed ecco l'autocarro di un bellissimo blu anche lui ha tante palline blu vediamo se quello verde sì le vediamo appena ma sono tante palline verdi nel suo cassone e ora non possono mancare le palline rosse del camion rosso evviva possiamo riempire tutte le piscine con le palline colorate andiamo 1 2 3 4 5 5 autocarri con cassone ribaltabile e vanno verso gli scivoli ecco lì versiamo le palline viola nella piscina viola fantastiche fantastiche facciamo subito un tuffo in alto con l'ascensore e giù dallo scivolo che tuffo un vero spasso sì e ora riempiamo la piscina gialla con le palline gialle vai macchina sportiva subito un tuffo wow che tuffo è sempre più bello ecco le palline blu è un bellissimo blu dobbiamo proprio farci un bellissimo tuffo attenzione attenzione via che succede? che succede? la macchina sportiva fa un tuffo all'indietro wow presto le palline verdi wow bellissimi questi colori un bel tuffo non ce lo toglie nessuno ciao wow bellissimo mancano le palline rosse e ora guardate la piccola macchina rossa fa un tuffo immersa nelle palline del suo stesso colore la macchina è felicissima nel frattempo anche l'ultimo camion torna al garage buon riposo camion a presto amici per un'altra avventura con i grandi veicoli da lavoro per un altro mamma lo